Perché è una scommessa con i miei compagni che avrei fatto un giro in meno di un minuto, 58 secondi No noi abbiamo cronometrato 1,4, 1 minuto e 4 Mi dicono 1,4 E gli anni mi ha fatto un altro anno di contratto Ma non vale, che ti hai rivevuto? Lo shampoo? No, no, lo shampoo l'abbiamo fatto Ma con i capelli Marco? I capelli, anche questa è una scommessa No, no, quello mi ha messo di tutto in testa Si vede Giriamo